L'uomo sentì dentro di sé un tormento, un tormento che lo toccava fin nel profondo. Dalla sua bocca non si udì neanche un lamento e non raccontò mai a nessuno quello che aveva provato. Ecco cosa ci insegna questa bella parabola. Che per tanti la visita della prostata è una passeggiata, per altri meno. Chi ha provato lo sa. E' una felice all'invito di chi le chiede un giro di danza. E non importa se sente che stringe, perché di curve e di fianchi ce n'è. Poi ritorna la sedia stremata, per ventaglio un fazzoletto di seta. Insomma, felice e sudata di ballo, due guance rosse che sembrano bignere. E Romino raccolse il coraggio, che mai si sarebbe pensato. Le borse, la mano, le chiese, permette un giro da in sé. E lì fu un tango e poi fu una milonga, dove il fiato respira soffiato. E con un afflato di voce all'orecchio lei gli disse E perché vorrebbe fuggire con me? E Romino con gli occhi di cenere Sorrise rispose Lo voglio E in un vortice giro di ballo La travolse rubando le casche E in un vortice giro di ballo Orquestra bluetta Orquestra bluetta Orquestra bluetta